Buonasera a tutti, oggi vi racconteremo come qui nelle terre venete viene preparato questo piazzo tipico che viene chiamato Poletta, questo mallopetto giallo a volte un po' più molliccio a volte meno, a volte viene usato anche a brustolito, infatti il vecchio detto prendete il pentolaccio che in veneto si dice calieron della Poletta che veniva attaccato sul gancio ed era l'unica cosa che usavano perché mangiavano solo quella insieme alle arighe, tra poco vedremo anche come la prepareremo, rimanete con noi e non guardate più la parodi è bruttissima la sua cucina, bravo Leo! Cos'è il mal di testa? Basta, taglia, taglia, taglia!